Ciao a tutti e a tutti, bentornati sul canale, ben arrivati se è la prima volta che mi vedete. Facciamo questo podcast per farvi vedere i lavori in corso e terminati, anche se terminati ne ho uno solo, però così vi tengo un pochino aggiornati senza aspettare troppo tempo. Allora, sono andato avanti con questo chalet che vorrei finire tra oggi e domani, che è quello lavorato partendo da, vediamo se adesso faccio cadere, metto un attimo il salva punti per la salva maglia, quello lavorato con il felt in tweet che avevo iniziato partendo dalla punta, che poi sarà, così. Adesso devo finire il giallo e poi ho l'ultimo colore. Ho fatto questa alternanza con dei due colori lì, qua ho fatto lo stacco netto, qua ho fatto così, e l'altro lo farò netto anche quello, altrimenti se lo faccio anche di qua, poi sembra che qua ho sbagliato, mi stanno cadendo i punti. Mi piace come sta avvenendo, ovviamente qua non è tutta l'ampiezza perché le maglie sono strette sul ferro, non verrà molto profondo come altezza, ma mi va bene perché poi io lo userò come sciarpa, e quindi questo è uno. Mi è piaciuto molto la realizzazione di questo tipo di costruzione e tant'è che ne ho iniziati altri due perché mi servono per un evento del quale poi vi parlerò appena ho le informazioni da potervi dare. E infatti ho iniziato uno con questo filato, di quelli che fanno poi l'effetto jacquard un po', e questo l'ho fatto con la stessa tecnica ma con la maglia rasata perché si vedono meglio i disegni. Questo è proprio all'inizio, inizio e inizio. Vedete che si formano questi disegnini, poi adesso ha delle fasce di colore, un bel effetto anche questo. Poi vi farò sapere tutti i dettagli di questi filati perché sono delle cose nuove appunto che riguarderanno questo evento. Quindi poi avrete tutti i dettagli. Questo è lo stesso, però a maglia legaccio, ne ho iniziato uno con questo filato, che è un filato di, adesso non ce l'ho sotto mano la fascetta, mannaggia, vi avevo già fatto vedere quelli dell'arcobaleno Udine.i.i, della linea TDF filati, che è il Artist Full, è un bellissimo filato, vediamo se trovo la fascetta. Non la vedo qua, quindi non so dove l'ho messa, perché la metto qua sul tavolino e non la vedo, mi sa che ho l'ho buttata. Non lo so, vabbè, comunque ve l'avevo fatto vedere, è un bellissimo filato. E questo è proprio all'inizio, inizio e inizio, a maglia legaccio. L'unica luce non si vede nei colori, comunque è anche questo in corso d'opera perché appunto mi servirà per questo evento che ci sarà. E questi sono i lavori in corso. Altre robe non ho, perché voglio finire prima questo chalet, poi ho in mente un bel golfettone tipo giacca, che realizzerò con questo bellissimo filato, tutto colorato spray, bellissimo. È un filato grosso, lo sto, infatti ho fatto il campione con i feri del numero 10, mi piace un sacco il risultato, tutto così colorato. E ci farò questo golfone. Spero in tempo per, ma comunque fa ancora parecchio freddo, anzi il freddo è arrivato adesso, poi con i feri 10 cresce veloce, quindi perché poi vi vorrei fare il tutorial. E questo è un filato di lana di biella che si chiama Marshmallows, un 100% lana, è uno stoppino grosso grosso e 100 grammi 50 metri da lavorare con feri 10-12. Io ho fatto 10 perché il 12 non ce l'avevo, questo è già lavato, il campione è rimasto bello morbido, quindi lo farò con questo numero di feri. Poi se vi piace andate sul sito di lana di biella e cercate questo Marshmallow, ci sono anche altri colori ed è davvero un bellissimo filato, caldissimo perché 80% lana poi così spesso, con questo potete andare anche a sciare. Bene, quello poi, altre cose in corso non ho, ho finito una pochette che mi servirà anche questa per questo evento, una piccola borsettina, pochettina, chiamiamola più borsettina, è piccola eh, perché guardate in confronto con la mano, non è una borsa grande e anche questa l'ho realizzata con questo filato particolarissimo che appunto poi vi darò tutti i dettagli e quando poi seguirà il tutorial. Sono partito da un fondo e poi è così si apre, quindi ho messo questo tipo di chiusura qua e nulla, così non l'ho foderata, non ho messo a rete niente perché comunque è abbastanza rigida e non volevo appesantirla ancora di più. Quindi appena, io ho già registrato l'intro del video con i materiali che sono necessari e poi continuerò a fare il tutorial che realizzerò con un altro filato perché va meglio da lavorare per, per, per fare il tutorial. Questa è una fettuccia molto 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 particolare, davvero bella per fare qualcosa di sfizioso, veramente di strano, se no di strano, di un po' diverso dal solito e quindi appena finirò il tutorial poi ve la pubblico e vi darò tutti i dettagli del filato, su come acquistarlo eccetera. Mi sembra una cosa carina, poi fatemi sapere cosa ne pensate, ho avuto questa idea, poi mi è venuta l'idea di mettere questa, questa pellicetta, ecologica sempre, per dare qualcosa di, oddio, la borsa era già importante di suo, però con questo bordino la trovo più, più di finita. Poi ovviamente a seconda dei gusti si può fare anche senza. Bene, non ho altre cose in corso, ne avrei tante di idee da fare. Tra l'altro sono scomodissimo perché come sempre qua dietro c'è la signora che dorme e mi rubo il posto sulla poltrona. E io poi devo sedermi, non sto comodo. Per fortuna che è brava, che dorme qua e non si mette a fare danni con i filati. Credo di avervi detto tutto, sapete che i podcast, i miei podcast sono sempre flash, perché vi faccio vedere, li faccio abbastanza spesso, quindi non ho moltissime cose, acquisti non ne ho fatti, la maglia, quella che avevo iniziato con il filato di cotone felpato, ho fatto una parte dello sprone, ma sono ancora qua, non sono andato ancora avanti, perché poi ho iniziato queste cose che mi servono e quindi rimanderò a dopo aver finito gli scialli, lo scialle uno, perché poi gli altri li porterò avanti con calma e questo è, lo farò dopo, tanto comunque essendo un filato in cotone felpato poi la potrò usare ancora, bellissimo. Purtroppo quando si iniziano troppi progetti è così e si ha poco tempo e si riesce a portare avanti poche cose. Bene, adesso vi saluto, io mi metto a sferuzzare a questo scialle perché lo voglio finire tra oggi e domani e nulla, vi auguro una buona domenica, sferuzzate, uncinettate perché fa bene allo spirito, fa bene a tutto e ci vediamo in un prossimo video, non so se sarà un podcast o un tutorial, vediamo e poi vi darò le informazioni per questo evento a cui parteciperò. Ci vediamo presto e un abbraccio, ciao ciao!